Ed ora la pagina dello sport con il calcio di Serie C domani alle 20.45 il fischio d'inizio all'Adriatico Cornacchia di Pescara appunto per il derby di ritorno tra Pescara e Pineto che sarà trasmesso in diretta, in esclusiva e in chiaro su Rete8 con un ampio prepartita a partire dalle ore 19.45. Ma per sapere quali sono appunto le condizioni anche dei biancazzurri andiamo subito a collegarci in diretta via Zoom con il nostro Enrico Giancarli che è già pronto. Enrico buongiorno a te, allora quali sono le novità in attesa di questo importante derby? Intanto ben trovata te Anna, un saluto a tutti gli amici che ci guardano in diretta all'ATG8. Voglio ribadire prima di andare con le news quella che è la notizia che hai dato tu nel lancio ovvero la diretta domani in esclusiva sul Rete8 in chiaro del match tra Pescara e Pineto con Ampio prepartita a partire dalle ore 19.45. Detto questo c'è un po' di emergenza in casa Pescara in vista del match di domani. Intanto anche Zeman è febbricitante, ieri non ha diretto la seduta di allenamento, oggi non c'è stata la conferenza stampa e la Boemo conta comunque di essere domani in panchina per guidare la squadra. Ma la notizia diciamo dell'ultima ora, già ieri ha saltato l'allenamento Cangiano, oggi addirittura 40 di febbre per Cangiano e quindi neanche tra i convocati e in casa Biancazzurra è vera e propria emergenza lì in attacco. Perché? Perché Anna oltre a Cangiano non ci sono Vergani e D'Acornero e quindi Zeman dovrà inventarsi qualcosa con l'assenza anche di Franchini, causa squalifica. Torna invece tra i convocati dopo l'intervento al ginocchio Pippo Pellacani da valutare le condizioni dei centrocampisti squizzato e da gasso che figurano in lista ma non sono al 100%. Allora andiamo a vedere quelle che potrebbero essere le scelte del tecnico Boemo in vista del derby di domani, fischio di inizio ore 20 e 45. All'andata decise Gambale dopo un errore di Riccardo Brosco con una vittoria a contifatta storica del Pineto. Plizzari tre pali, su questo non ci sono dubbi, Floriani, Brosco di Pasquale e Milani favorito su Moruzzi in difesa. A centrocampo si dovrebbe andare verso la conferma di Aloy nel ruolo di play con De Marco e Tuniov nel ruolo di Mezeali davanti. Certi una maglia, Cuppone e Merola, lì Zeman dovrà inventare qualcosa. Non è escluso il lancio dal primo minuto dell'uno degli ultimi arrivati, Capone che però è fermo da tantissimo tempo anche se si è allenato bene in questi giorni. Non è esclusa anche la novità Zeppieri dal primo minuto, il classe 2006, in quel caso Cuppone potrebbe fare l'esterno offensivo. Ci sarebbe anche l'ipotesi di Meazzi esterno offensivo, il neo arrivato, anche se è sostanzialmente più una mezzala nell'idea di Zeman, ma comunque anche questa non è un'ipotesi da escludere. Fischio d'inizio domani ore 20.45, diretta del match su Rete8 con ampio prepartita a partire dalle 19.45. Se non ci sono domande ti restituisco la vita.